Sindaco, un incontro con diverse associazioni di categoria e non solo per cercare di modificare concretamente questo decreto Gentiloni? Ma non è solo questo, l'incontro è con tutto il mondo economico cittadino, quindi dagli imprenditori, attività commerciali, che inviteremo martedì sera alle 19.30 presso l'aula 10 dell'Universario di Spudenza, ringrazio il magnifico Rettore, per parlare del decreto ma non solo, per parlare anche di quello che l'amministrazione sta facendo, quindi della pianificazione che sta portando avanti, soprattutto in relazione alle scuole, perché poi magari si generano molti equivoci, per parlare di quello che si può e si deve fare per rilanciare e per rialzarsi da questa situazione difficile di depressione, che non è soltanto quella psicologica che purtroppo c'è, ma anche quella economica. E quindi io credo che, oltre a voler raccontare un po' tutto quello che stiamo facendo, sia necessario ascoltare. E quindi anche un momento di confronto e di ascolto. Inviteremo tutti, insomma, e non è l'unico incontro che faremo, è anche per prepararci a quella che sarà la manifestazione che stiamo organizzando per andare a Roma e per far sentire la nostra voce, che il governo mi sembra che con questo decreto non ha capito bene quello che è successo qui, non si è reso ancora bene conto e quindi noi saremo lì pronti a far sentire la nostra voce, abbiamo già votato un provvedimento in questo incontro che si è fatto in provincia con Renzo di Sabatino, però ripeto, adesso inizia tutta una serie di attività che confluiranno poi in questa manifestazione conclusiva. Quindi iniziamo ad ascoltare il territorio. E in realtà effettivamente la scuola ha lo stadio da settembre? Stiamo lavorando su tutta una serie di ipotesi. Quella è un'ipotesi che ha avuto il primo via libera da parte della protezione civile, è un'ipotesi però che deve essere ancora vagliata per tanti altri aspetti, ci sono altre ipotesi, però è chiaro che sulle scuole sicure siamo tutti d'accordo, sono d'accordo i genitori, sono d'accordo il sindaco, sono d'accordo i dirigenti scolastici, è chiaro che però dobbiamo fare i conti poi con la quotidianità e con la situazione che viviamo. Noi ripeto, abbiamo a Teramo 11.000 studenti tra scuole superiori, scuole medie e inferiori e quindi il ragionamento va fatto su 11.000 ragazzi, quindi un discorso abbastanza complesso. Io credo che bisogna individuare delle soluzioni a brevissimo, poi delle soluzioni a breve e medio termine e poi quelle a lungo termine. Quindi la cosa che sicuramente non va fatta, questa volta non si deve sottovalutare quello che è accaduto e quindi iniziare a lavorare, ma noi l'abbiamo fatto già dal giorno dopo, il Comune ha il compito, il dovere e l'onere di preparare tutta una serie di proposte e di soluzioni e poi ha il compito e quasi l'obbligo di confrontarsi con il Consiglio Comunale sicuramente ma con tutto il mondo, in questo caso della scuola e dei genitori. Ma questo confronto io l'ho aperto già dal primo giorno, io ho fatto tantissime riunioni con i genitori, con le varie associazioni che si sono formate perché credo che poi dal confronto e anche a volte dallo scontro però poi si esce fuori con maggiore consapevolezza di quello che è la situazione e su questo io devo dire che anche i media devono svolgere il loro lavoro in maniera lineare, bisogna dare i giusti messaggi, questo è importante perché dare messaggi sbagliati non fa altro che innalzare quel livello di ansia, di preoccupazione che poi sfocia in situazioni come quella che è accaduto l'altro giorno dove per una scossa di 3.6 ci siamo ritrovati 11.000 ragazzi in giro per la città.